Qual è la creatività? In cui incontrarci, per cui è proprio vero che senza la creatività non ci sarebbe la vita stessa. Oltre ad essere immaginazione pratica, la creatività è anche innanzitutto passione. Non a caso si vuole sottolineare, si sottolinea spesso che il popolo lombardo è pieno di creatività, è capace di innovazioni creative. Questo dice lo stile con cui affrontiamo la vita. Abbiamo bisogno di questa creatività che rende non solo qualche volta più comodo, più facile vivere, ma gli dà sapore, lo colora, lo rende appunto meno anonimo ma legato, affettivamente riconoscibile da me e dagli altri. Ed è interessante che sia un'istituzione come il Consiglio regionale ad occuparsi di questa tematica perché fa vedere che la creatività ha anche una dimensione sociale, strutture i legami. C'è bisogno di questo ingrediente nella capacità e nel modo con cui ci relazioniamo gli uni agli altri perché senza questo ingrediente saremmo tutti ingessati, tutti incapaci di avere quel gesto che mi permette di riconoscere che l'altro mi riconosce, mi vuole bene, si aspetta qualcosa da me, si attende qualcosa da me. E' possibile scoprire la creatività in tante dimensioni, ad esempio c'è una creatività liturgica, giustamente oggi in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale dei poveri come ha voluto Papa Francesco. In realtà qui a Milano l'abbiamo celebrata il 5 novembre perché la diocesi di Milano ha un rito proprio che anticipa l'ingresso in avvento, per cui c'è anche questa dimensione della creatività che rende la stessa Chiesa piena di sapore. E' vero, è giusto declinare la dimensione creativa con la dimensione solidale perché c'è bisogno nel dare risposta ai bisogni e nell'accogliere i poveri di mostrare loro come sono attesi, come gli si vuole bene e la creatività aiuta molto questo e soprattutto permette di cogliere che ciò che diamo non è semplicemente la risposta a un bisogno ma è un qualcosa di più, al riconoscimento di un legame, al riconoscimento di un amore che ci precede, basta pensare a quel gesto paradigmatico che come diocesi abbiamo fatto col refettorio ambrosiano dove si è trasformato una risposta a un bisogno, il cibo, in una relazione e una voglia di far vedere che la vita è bella attraverso l'arte.